ciao a tutti oggi con questo video tutorial andiamo a vedere come si realizza questa simpaticissima piastrella con le farfalline questa è una piastrella che si può ampliare sino renderne addirittura una coperta o si può utilizzare per fare tutti i lavori che noi facciamo solitamente con le piastrelle possiamo realizzarci una maglia una copertina un cuscino qualsiasi progetto che la nostra fantasia ci suggerisce andiamo quindi subito a vedere come si realizza e iniziamo andando a realizzare un anello magico abbastanza largo all'interno del quale andremo inserire 16 maglie alte quindi facciamo il nostro anellino chiudiamo con le nostre 3 catenelle a sostituzione di una maglia alta e poi all'interno dell'anellino ne facciamo altre 15 quindi 1 2 3 per un totale di 16 comprese le tre iniziali una volta terminate le 16 maglie alte stringiamo l'anello tirando il filo e nella terza catenella dal basso ci chiudiamo con una maglia bassissima quindi entriamo all'interno della terza catenella prendendo entrambe le costine del punto e ci chiudiamo con una maglia bassissima 3 catenelle 1 2 e 3 catenelle all'interno dello stesso punto dal quale siamo partite con le 3 catenelle rientriamo e facciamo una maglia alta 2 catenelle e sempre all'interno dello stesso punto facciamo altre 2 maglie alte 1 rientriamo nello stesso punto e ne facciamo un altro e abbiamo formato il primo angolino adesso lavoriamo 3 maglie alte nelle successive 3 maglie di base 1 2 e 3 maglie alte e andiamo a formare il secondo angolo quindi nella prossima maglia di base lavoreremo nuovamente 2 maglie alte 1 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte 1 e sempre nella stessa maglia di base 2 e così abbiamo formato il secondo angolino 3 maglie alte 1 2 3 maglie alte nelle successive 3 maglie di base e procediamo andando a formare nella prossima un altro angolino 3 maglie alte e l'ultimo angolino una volta che abbiamo terminato con le ultime 3 maglie alte ci chiudiamo nella terza catenella dal basso nuovamente con una maglia bassissima prendendo sempre tutte e due le asoline nel punto e chiudiamo la nostra maglia bassissima adesso facciamo una maglia bassissima nel punto accanto entriamo all'interno dell'archetto e facciamo un'altra maglia bassissima dopodiché 3 catenelle 1 maglia alta all'interno della dell'archettino 2 catenelle 2 maglie alte questi gli angolini li faremo sempre nello stesso modo adesso facciamo 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 catenelle saltiamo 7 maglie di base carichiamo il filo sull'uncinetto e saltiamo 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie e all'interno dell'archettino successivo nuovamente angolino quindi una 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 e ripetiamo 1 2 3 4 5 6 catenelle ci tuffiamo nell'angolino successivo e facciamo nuovamente l'angolino con 2 maglie alte 2 catenelle e sempre all'interno dello stesso angolo 2 maglie alte e procediamo così sino al termine del giro quindi 6 catenelle e angolino una volta terminate le ultime 6 catenelle andiamo ad agganciarci alla terza catenella dal basso nuovamente con una maglia bassissima adesso se sembra che si imbarca la tirate leggermente vedete la tirate un po non mi preoccupate perché poi si spiano da sola man mano che voi lavorate adesso nuovamente una maglia bassissima nella maglia successiva entriamo nell'archetto maglia bassissima 3 catenelle maglia alta due catenelle e due maglie alte all'interno dell'angolino a formare l'angolo successivo va bene adesso rifacciamo due maglie alte sopra le due maglie alte sottostanti una e due maglie alte e ripetiamo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 catenelle una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte quindi due maglie alte una e sulla successiva 2 e adesso siamo all'angolino successivo quindi nuovamente all'interno dell'angolino rifaremo maglia alta maglia alta 2 catenelle e nuovamente due maglie alte 1 e 2 2 maglie alte sopra le due maglie alte successive 1 e 2 e ripetiamo 1 2 3 4 5 6 catenelle 2 maglie alte sopra le due maglie alte successive 1 e 2 maglie alte e nuovamente angolino sopra le 2 maglie alte successive 2 maglie alte 1 e 2 e procediamo così sino al termine della riga quindi 6 catenelle 2 maglie alte sopra le 2 maglie alte angolino 2 maglie alte 6 catenelle e poi chiudiamo insieme dopo aver fatto le ultime 6 catenelle faccio le ultime 2 maglie alte sopra le ultime 2 maglie alte che mi ritrovo sotto quindi 1 e 2 che la facciamo sulla maglia bassissima adesso ci agganciamo 1 2 3 alla terza catenella dal basso sempre con una maglia bassissima una maglia bassissima della maglia successiva entro all'interno dell'archetto e nuovamente maglia bassissima 1 2 3 catenelle maglia alta 2 catenelle 2 maglie alte 1 e 2 questo all'interno dell'angolino a formare l'angolino successivo adesso faccio 4 maglie alte sopra le 4 maglie alte successive di base quindi 1 2 3 e 4 maglie alte 3 catenelle 1 2 e 3 catenelle adesso devo scendere devo caricare due volte il filo sull'uncinetto perché devo fare una doppia maglia alta vado a contare dalla dall'inizio della riga di maglia alta questa quella sotto i due archettini di 6 maglie 1 2 3 maglie alte entro all'interno della quarta maglia aggancio il filo e vado a chiudere la mia maglia altissima due asoline alla volta 2 e 2 1 2 e 3 catenelle e vado a lavorare quattro maglie alte sulle quattro maglie alte sottostanti 1 2 3 e 4 angolino faccio l'angolino quindi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte però ve lo faccio rivedere facciamo quattro maglie alte sulle quattro maglie alte sottostanti 1 2 3 e 4 maglie alte 3 catenelle nuovamente carico due volte il filo sull'uncinetto scendo sotto e conto 1 2 3 nella quarta entro da dietro aggancio il filo e vado a chiudere la maglia altissima in tre passaggi due asoline alla volta 1 2 e 3 passaggi 3 catenelle 1 2 3 catenelle e procedo 4 maglie alte angolino 4 maglie alte 3 catenelle maglie altissima nella quarta maglia delle maglie alte sottostanti i due archetini di 6 a formare le farfalline si formano così le farfalline e procedete così fino al termine del giro dopo aver chiuso le ultime quattro maglie alte sugli ultimi quattro punti di base ripartiamo dal basso 1 2 sulla terza catenella nella terza catenella facciamo la maglia bassissima una maglia bassissima nella maglia successiva entro all'interno dell'archetto nuovamente maglia bassissima 1 2 3 catenelle una maglia alta 2 catenelle e due maglie alte allora una e due una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante quindi 1 2 3 4 5 e 6 3 maglie alte all'interno del primo archetto di 3 1 2 3 maglie alte 1 maglia alta sopra la maglia altissima 3 maglie alte all'interno dell'archetto successivo 1 2 e 3 e procedete a maglia alta per tutto il giro quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta nell'angolino fate l'angolino quindi 2 maglie alte 2 catenelle maglie alte maglia alta sopra ogni maglia alta 3 maglie alte nel primo archetto una maglia alta sopra la maglia altissima 3 maglie alte nel secondo archetto e procedete così fino al termine del giro una volta terminate tutte le maglie alte andiamo ad agganciarci alla terza catenella del basso sempre con la nostra maglia bassissima maglia bassissima nella maglia successiva e nuovamente entriamo all'interno dell'archetto maglia bassissima 3 catenelle e facciamo l'angolino quindi maglia alta 2 catenelle 2 maglie alte 1 e 2 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 catenelle scarichiamo il filo sull'uncinetto saltiamo 7 maglie di base 1 2 3 4 5 6 e 7 nell'ottava siamo la prima di 9 maglie alte quindi entriamo 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 maglie alte e nuovamente 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 catenelle a questo punto entriamo all'interno dell'archetto perché saltiamo 1 2 3 4 5 6 e 7 ed entriamo all'interno dell'archettino facendo il nostro angolino e ripetiamo quindi rifaremo 6 catenelle saltiamo 7 maglie di base 9 maglie alte 6 catenelle angolino 6 catenelle saltiamo 7 maglie 9 maglie alte 6 catenelle angolino successivo sino al termine del giro terminiamo la riga dopo le ultime 6 catenelle andando ad agganciarci alla terza catenella dal basso di inizio giro sempre con una maglia bassissima maglia bassissima nella maglia successiva poi entriamo all'interno dell'archettino maglia bassissima 3 catenelle maglia alta 2 catenelle ma e 2 maglie alte adesso facciamo 2 maglie alte sopra le 2 maglie alte sottostanti 1 e 2 e ripetiamo 6 catenelle 9 maglie alte sulle 9 maglie alte successive quindi 1 e 9 e nuovamente 1 2 3 4 5 6 catenelle 2 maglie alte sopra le 2 maglie alte successive una e 1 2 e procediamo così sino al termine quindi nell'archetto faremo l'arche nell'archettino faremo l'angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte 2 maglie alte sopra le 2 maglie di base 6 catenelle 9 maglie alte 6 catenelle 2 maglie alte angolino all'interno dell'archetto 2 maglie alte 6 catenelle e procediamo così sino al termine del giro dopo aver terminato con le ultime 6 catenelle le ultime 2 maglie alte andiamo a chiuderci sempre nella solita terza catenella dal basso con una maglia bassissima una maglia bassissima nella maglia successiva entro nell'archetto maglia bassissima 3 catenelle e nuovamente maglia alta 2 catenelle 2 maglie alte 1 e 2 adesso vado a fare 4 maglie alte 1 2 3 e 4 maglie alte sulle 4 maglie alte sottostante 1 2 3 catenelle e vado a riformare la farfallina quindi carico due volte il filo sul uncinetto salto 1 2 3 nella quarta maglia alta entro ovviamente sottostante e vado ad agganciare il filo chiudendo la maglia altissima in 3 passaggi 1 2 3 catenelle 9 maglie alte 1 2 9 maglie alte nuovamente 3 catenelle 2 volte il filo sull'uncinetto scendo fino alle maglie alte vado a saltare 1 2 3 nella quarta entro e chiudo la mia maglia altissima andando praticamente ad inglobare le due righe di catenelle 1 2 3 catenelle e ricomincio quindi quattro maglie alte sopra le quattro maglie alte sottostanti 2 3 e 4 maglie alte e all'interno dell'archetto un angolino quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte e procedo così fino al termine della riga quindi qui a farò una maglia alta sopra ogni maglia alta 3 catenelle vado ad inglobare le due catenelle puntandomi nella quarta dall'inizio quindi 1 2 3 sulla quarta mi punto e chiudo la mia farfallina 3 catenelle 9 maglie alte e procedo così fino al termine del giro andiamo a chiuderci come al solito nella terza catenella dal basso di inizio giro procediamo con il giro successivo quindi facciamo una maglia bassissima nella maglia successiva entriamo all'interno dell'archetto maglia bassissima 3 catenelle maglia alta 2 catenelle 2 maglie alte e procediamo con il giro tutto a maglia alta andando a realizzare una maglia alta sopra ogni maglia alta quando arriviamo agli archetti facciamo 3 maglie alte nel primo archetto una maglia alta sopra la maglia altissima 3 maglie alte nel secondo archetto una maglia alta sopra ogni maglia alta e andiamo a chiudere tutto il giro a maglia alta e chiudendoci come sempre nella terza catenella dal basso con una maglia bassissima a questo punto la vostra piastrella è terminata se però volete allargare la piastrella per farne appunto una copertina una componente più grande un qualsiasi tipo di progetto che necessiti di un allargamento potete farla sia con lo stesso colore che cambiare colore io adesso utilizzerò un altro colore per allargare la mia ho fatto una maglia alta entro all'interno di uno degli archettini vado a chiudere una catenella con due fili lascio poi il filo più corto e vado a chiudere altre due catenelle con un filo solo poi rientro all'interno dell'archetto e faccio il mio consueto angolino un'altra maglia alta due catenelle e altre due maglie alte adesso nuovamente riparto con le mie 6 catenelle quindi una due tre quattro cinque sei salto le sette maglie di base quindi una due tre quattro cinque sei sette e nell'ottava vado a realizzare una maglia alta adesso procedo con lavorare altre otto maglie alte in totale quindi saranno nove due tre più una nove adesso faccio sei catenelle salto sette maglie una due tre quattro cinque sei sette e nell'ottava ripeto otto ma la prima di nove maglie alte quindi una due e nove sei catenelle salto una due tre quattro cinque sei sette entro all'interno dell'archettino e vado a realizzare il mio angolino e procedo così dopo l'angolino faccio le mie sei catenelle salto sette maglie poi nove maglie nuovamente sei catenelle salto sette maglie nove maglie alte sei catenelle salto sette maglie di base e vado a fare l'angolino successivo e poi proseguo per gli altri due lati andiamo ad agganciarci dopo le ultime sei catenelle alla terza catenella dal basso di inizio giro sempre con una maglia bassissima e procediamo lavorando esattamente come negli altri giri soltanto aumentando di una farfallina praticamente quella centrale quindi facciamo la maglia bassissima nella prima maglia subito dopo la chiusura entriamo all'interno dell'archetto nuovamente maglia bassissima tre catenelle maglia alta due catenelle maglia alta per due volte quindi una e due maglie alte poi lavoriamo una maglia alta sopra le prime due maglie alte che abbiamo aumentato nel giro sottostante quindi una e due e ripetiamo sei catenelle una due tre quattro cinque sei catenelle e andiamo a lavorare nove maglie alte sulle nove maglie alte sottostanti chiudiamo come di consueto il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella dal basso di inizio giro poi facciamo la nostra maglia bassissima nella maglia successiva entriamo nell'archetto maglia bassissima e le tre catenelle iniziali entriamo nell'archetto maglia alta due catenelle due maglie alte una e una due adesso andiamo a lavorare esattamente come abbiamo fatto nei piani sottostanti quindi per formare la nostra farfallina quindi andiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta una due tre e quattro dopo di che facciamo quando arriviamo alla parte delle catenelle facciamo tre catenelle carichiamo due volte il filo sull'uncinetto scendiamo al piano sottostante dove abbiamo le maglie alte saltiamo una due tre nella quarta andiamo a fare la chiusura quindi andiamo ad acchiappare il filo da dietro e chiudiamo la maglia altissima in tre passaggi due asoline alla volta facciamo le nostre tre catenelle e procediamo per tutto il giro quindi andremo a fare una maglia alta su ogni maglia alta tre catenelle chiudiamo la farfallina tre catenelle maglie alte sino quando arriviamo all'angolo facciamo il gruppo di punti due maglie alte due catenelle due maglie alte e procediamo così sino al termine del giro nel giro successivo andremo a riprendere tutto il nostro quadrato a maglie alte quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta dove abbiamo le tre catenelle facciamo tre maglie alte una maglia alta sopra la maglia altissima esattamente come abbiamo fatto nei giri precedenti e procediamo in questo modo ad allargare il nostro progetto per quanto ci occorre quando ne avrete lavorato un po' di giri vedete la piastrella come viene è molto carina molto bella molto d'effetto semplice da fare ma molto d'effetto se volete ingrandirla ulteriormente dovete soltanto tenere presente che il pri la prima farfallina la farete subito dopo il primo angolino se cambiate filo entrate in uno degli angoli e ripartite da uno degli angoli se continuate con lo stesso filo farete quello che abbiamo fatto quando abbiamo lavorato un colore solo quindi andrete a chiudervi con una maglia bassissima e poi fate un'altra maglia bassissima nella maglia precedente all'archetto e poi nell'archetto fate l'angolino una volta che fate le sei catenelle le prime sei catenelle saltate sette maglie tra un gruppo e l'altro fate nove maglie alte e in questo modo potrete ingrandire a piacimento la vostra piastrella se però voi volete realizzare una striscia quindi magari poniamo che voi vogliate fare una maglia con questa piastrella quindi andate ad allargarla fino ad avere la larghezza però magari non vi va bene di lunghezza la volete fare un po' più lunga per lavorare questo punto in rettangolo andiamo a chiudere definitivamente a chiudere la riga definitivamente con la maglia bassissima poi entriamo nell'archetto e facciamo un'altra maglia bassissima per arrivare proprio all'estremo dell'angolo ora voltiamo il nostro lavoro e procediamo la lavorazione esattamente come abbiamo fatto prima solo che lo facciamo in righe di andata e ritorno quindi saliamo con tre catenelle e andiamo a fare le sei catenelle una, due, tre, quattro, cinque, sei catenelle per formare la prima striscetta della farfalla quindi andiamo a saltare una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette maglie e andiamo a realizzare la prima di nove maglie alte quindi una, due e nove e procediamo con sei catenelle una, due, tre, quattro, cinque, sei saltiamo sette maglie di base, nove maglie alte sei catenelle, sette maglie di base, nove maglie alte sei catenelle e al termine ci chiuderemo con una maglia alta all'interno della maglia d'angolo come detto, dopo aver fatto le ultime sei catenelle andiamo a chiuderci con una maglia alta all'interno dell'archettino in questo modo, così ora voltiamo e procediamo nello stesso identico modo della riga precedente perché adesso andremo a lavorare in righe quindi una, due, tre catenelle sei catenelle aggiuntive tre, quattro, cinque, sei e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante quindi una, due, sino a nove dopodiché nuovamente sei catenelle nove maglie alte, sei catenelle, nove maglie alte, sei catenelle e andiamo a chiuderci con una maglia alta sulla terza catenella dal basso di inizio giro precedente come detto, una volta che abbiamo realizzato le ultime sei catenelle andiamo a chiuderci con una maglia alta sulla terza catenella dal basso di inizio giro precedente quindi una, due e in questo punto ci chiudiamo con una maglia alta ora voltiamo e procediamo andando a fare le nostre tre catenelle iniziali a sostituzione della maglia alta poi facciamo tre catenelle di separazione andiamo al piano delle maglie alte una, due, tre, nella quarta entriamo e ci stringiamo andiamo con la maglia altissima a formare la farfallina una, due, tre catenelle e una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte esattamente come abbiamo fatto nei giri solo che questa volta andiamo a lavorare in righe di andata e ritorno quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e la formazione della farfallina la faremo esattamente come abbiamo fatto nei piani sottostanti una volta che avremo terminato con le ultime tre catenelle dopo aver fatto l'ultima farfallina andiamo a chiuderci nella terza catenella dal basso con una maglia alta ora voltiamo e andiamo a riprendere tutti i punti a maglia alta quindi tre catenelle a sostituzione della prima maglia alta tre maglie alte all'interno di ogni archetto di tre maglie tre catenelle una maglia alta sopra la maglia altissima e tre catenelle e tre maglie alte, scusate nell'archetto delle successive tre catenelle e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta praticamente esattamente come abbiamo fatto nelle altre parti soltanto che questa volta lo facciamo in uno dei lati per allungare il nostro lavoro procediamo quindi a maglia alta sino al termine della riga ed ecco qui una volta che avrete terminato il primo motivo come vedete si allunga e quindi in questo modo la potrete lavorare anche in rettangolo adesso non vi rimane altro che prendere in mano l'uncinetto il filato e provare a farla a questo punto il nostro tutorial è terminato io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi aspetto tutti sul gruppo di facebook gli amici dell'angolo di Chris e ci vediamo al prossimo tutorial ciao